Da alcuni giorni la diocesi Lucera-Troia raccoglie aiuti per le popolazioni ucraine colpite dalla guerra. Il contributo economico viene raccolto in Curia Vescovile, presso l'ufficio missionario in Piazza Duomo. I beni di prima necessità e a lunga scadenza sono raccolti al centro di solidarietà padre e maestro. Il comune di Lucera invece, con la collaborazione delle associazioni di protezione civile, Radio Club Cavalli, Ser Lucera e Gavi, guardie ambientali volontari italiane, con i volontari degli scout a Gesci Gruppo Lucera 1, ha allestito un punto di raccolta presso i locali dell'ex biblioteca comunale di Lucera in Corso Garibaldi, dove è possibile donare beni di prima necessità.